Giuseppe, l'ultimo respiro hai deciso questa sfida con la Cairese, sono tre punti fondamentali per tutto. Un po' per come è arrivata questa vittoria, ma anche per la classifica. Sì, sono contentissimo perché fare gol all'ultimo, poi sotto i tifosi, penso sia la cosa più bella di questo sport. Ringrazio tutta la squadra perché sono momenti che comunque resteranno per sempre nel mio cuore e perché comunque grazie a loro sono arrivato fino a qua. Ringrazio mio padre a cui dedico il gol, che mi è sempre vicino, e anche il mister. La squadra gira bene, siamo contenti e speriamo di far sempre meglio. Avete vissuto un po' di momenti emotivi in partita forse oggi, vicini al gol sullo 0-0, poi dopo lo svantaggio siete andati un po' sotto tono, avete ritrovato quella verve giusta che vi serviva proprio negli ultimi minuti. Buoniti Giglio! Sì, diciamo che ogni tanto cagliamo mentalmente, però siamo stati bravi a risollevarla e comunque a prendere una partita che non era facile perché comunque loro sono una buona squadra e sono molto decisi anche loro. Quindi sono proprio tre punti che fanno piacere, soprattutto Morale, a questa grande squadra. Ora c'è ancora la sfida aperta per il secondo posto, siete a due punti dal vado, cosa farà la differenza da qui fino alla fine? Sicuramente chi ha più voglia. La voglia, la fame, noi ce l'abbiamo, poi siamo un grande gruppo, per me siamo tutti dei fratelli e non posso chiedere di meglio, soltanto di continuare a vincere con questo gruppo fantastico. Grazie.